Gentili telespettatori, buona giornata. Lilli Gruber, che ha un programma sulla 7, quindi è fuori da media 7 della Rai, attacca questi due colossi della comunicazione. Una è la televisione di Stato, in mano a chi governa, e l'altra è una televisione privata, in mano alla potente famiglia Berlusconi. Bene, Lilli Gruber è furiosa, ha un suo inizio di stagione furioso, e dice che la prossima stagione della politica in tv sarà un delirio. È caricatissima la Gruber, Lilli Gruber è caricatissima. Dice, la televisione italiana è il luogo del chiacchiericcio politico per eccellenza. Se, e vedo proliferare programmi, talk show, di tutto di più, come facciamo con tutti i governi, compreso quello Meloni, cercheremo di essere i cani da guardia, non i barboncini d'accompagnamento del potente di turno. Quindi, no barboncini, ma cani da guardia. E poi, dice, pazienza, se il signor o la signora presidente del consiglio mal tollera le domande, stare al potere significa pure accettare questo. Sono d'accordo con Lilli Gruber, in linea generale sono d'accordo con lei. Dice, tu sei il potente oggi, sei il capo dei capi in Italia, politicamente parlando ovviamente, il capo della politica italiana, devi accettare le domande. Sono d'accordo, ma vorrei fare una piccola precisazione. Ai presidenti del consiglio si fanno le domande, ci sono le conferenze stampa dove le domande vengono fatte sul tema, sull'argomento. Cioè, c'è una legge, poi c'è la conferenza stampa dove i giornalisti dovrebbero fare le domande sulla legge. Perché questa legge, per come questa legge, bla 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 bla. Cosa che è successa sempre con tutti i governi, in maniera corretta. Conte, Draghi, chi c'era prima, in conferenza stampa le domande erano domande. Scomode, ma domande. Il punto è che con Meloni i giornalisti di sinistra, quando è il loro turno, non fanno delle semplici domande, ma tentano lo scontro con la Premier, uno scontro fatto di a tu per tu, io contro di te. Cioè, il giornalista si trasforma nell'antagonista politico, diventa uno scontro tra il giornalista che rappresenta in quel momento la sinistra e la Meloni che rappresenta la destra. Ecco, questo è il perché la Meloni evita di fare conferenze stampa o le fa il minimo necessario. Proprio perché diventa un'arena dove c'è il giornalista contro il presidente del consiglio. Quindi, va bene Gruber quando lei dice, quando sei al potere devi accettare anche le domande, ma qui non è che la Meloni non vuole rispondere alle domande. Si fa come dico io, non voglio neanche sentire domande, perché è così e basta. E non è questo il punto. E non è neanche il fatto di domande che non sono compiacenti. Perché puoi anche fare una domanda che mette in difficoltà la Meloni? Vi faccio un esempio. Va bene, presidente del consiglio, perché non ha mai spiegato il perché esattamente lei non vuole fare più oggi il blocco navale promesso in campagna elettorale? Ci dica perché non l'abbiamo mai sentito il perché lei non vuole fare più il blocco navale e non ne ha più parlato. Questo non è uno scontro, non è a tu per tu. È una domanda. Doveva fare il blocco navale, perché non l'ha fatto? E senti la risposta. Oppure, vabbè, lei ha già fatto il cuneo fiscale e ha visto che gli italiani possono ricevere massimo 100 euro in più in busta paga. C'è il lavoro povero, lei il salario minimo non lo vuole mettere, come risolve questo problema, visto che le altre strade non ci sono? Non ci sono altre strade? Queste sarebbero delle carab gruber, queste sarebbero delle domande che possono mettere in difficoltà il premier, perché vanno proprio al dunque e lì mettono in dubbio l'elettorato, il voto, dice come mi hai promesso una cosa. Ma se le domande sono, Gian Bruno, allora, ma lei, se una donna dice no e no, cosa... Alla fine, cara Gruber, le domande sono come quelle che ho fatto io prima, che possono non piacere. Dice, beh, non ti piacciono queste domande, ma te le devi sorbire. Va bene, le domande, ma se è uno scontro dove il giornalista si scontra con la Meloni, capite che è un'altra cosa. Ecco, almeno, io lo so perfettamente. Solo che alla Gruber fa piacere che i giornalisti di sinistra si scontrino con quella che loro reputano una cattiva, una fascia. Ci siamo capiti, no? Quindi contro chi è fascio va bene tutto, scontrati, digliene di tutti i colori in conferenza stampa. Questo è il punto che ho sempre detto io. Quella democrazia alternante. Se succedesse una cosa del genere con un presidente del Consiglio di sinistra, dove i giornalisti di destra utilizzassero le conferenze stampa proprio per aggredire il presidente del Consiglio di sinistra, finimondo, avrebbero chiamato i caschi blu dell'ONU. Ma se è verso un presidente di destra va bene, perché quelli sono quelli cattivi, no? Sono i fasci che sono tornati e allora le domande possono essere anche aggressive a tu per tu. Ecco, questo è il punto. Loro possono, ma quelli di destra no. Avete capito? Tutto è permesso a una sinistra perché oggi c'è a capo un governo cattivo, fascista, in divisa. Ecco, avete capito? Tutto è concesso. Andare lì, non a fare domande, ma ad aggredire il presidente del Consiglio è concesso perché quella è quella cattiva. E quindi se è cattiva va bene tutto. Bene. Credo che questo ormai lo abbiano capito tutti. Bene, a quel punto la Gruber si rivolge all'amministratore delegato e dice Saluto Roberto Sergio, sono sicuro che regalerà agli italiani che pagano il cane le trasmissioni di giornalismo e approfondimento meravigliose. Purtroppo la RAI è irriformabile, lo dico con grande rammarico. Gli appetiti dei partiti e dei politici sono insaziabili. Quindi quel giornalismo e approfondimento meraviglioso ovviamente era sarcasmo. Dice E' venuto a mancare Silvio Berlusconi, ma metà del cielo televisivo italiano è ancora in mano a un privato, una famiglia. Leggo inoltre che c'è un patto tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi per salvaguardare Mediaset. Chissà su quali altre cose. RAI e Mediaset prendono l'80% della torta pubblicitaria. Alla 7 lavoro in totale autonomia e libertà, come mai avute prima. E va bene, rimani lì alla 7, se ti piace e sei in totale libertà. Tutto questo rancore perché? Volevi avere un programma in RAI o a Mediaset e vuoi andare con la Berlinguer su Rete4? Magari Silviuccio, Pier Silvio, Pier Silviuccio magari ti chiama. Non perdere le speranze. Arrivederci a tutti e grazie.